Storia della razza. La prima prova dell'esistenza di terrier inglesi in Russia, può essere vista nel Museo Zoologico di San Pietroburgo. La mostra presenta un terrier in stile inglese con la scritta questo cane è un terrier a pelo corto di nome Lisette. Apparteneva personalmente all'imperatore russo Pietro il Grande. In effetti, la razza è stata allevata come cane da compagnia per la nobiltà russa. Secondo alcuni rapporti, è noto che otto terrier toy russi dai capelli lisci gareggiarono in una mostra canina a San Pietroburgo nel 1874. La prima menzione più comune della razza, appare nel maggio 1907, quando undici russian toy terrier furono mostrati in una mostra a San Pietroburgo. Nel 1923 due cani apparvero all'esposizione canina di Mosca, e nel 1924 altri tre furono premiati con medaglie all'esposizione canina di Odessa. Ma a seguito della rivoluzione d'ottobre, la popolarità e il numero di terrier giocattolo russi sono diminuiti, poiché questi tipi di cani, erano strettamente associati all'aristocrazia, e quindi non erano approvati. Nel 1947 un solo cane fu mostrato a San Pietroburgo. Quando l'allevamento iniziò a rivitalizzare la popolazione dei russian toy terrier in Russia, solo pochi dei cani rimasti erano di razza o di razza. La mancanza di numeri e l'isolamento politico del paese all'epoca portarono alla creazione di una nuova razza completamente diversa dal precedente cane giocattolo in stile inglese, poiché gli allevatori cercavano di stabilizzare i restanti terrier di taglia giocattolo in una razza standard. Il moderno russian toy terrier risultante ha la maggior parte delle caratteristiche di un classico toy terrier con l'aggiunta di alcune nuove caratteristiche. La testa è alta, ma non larga, le guance sono piatte, gli occhi sono rotondi. Nel 1960 erano in mostra 76 cani e il primo standard per due varietà di terrier giocattolo russi fu scritto nel 1966 e approvato dal Ministero dell'Agricoltura. Nel 1988, la Federazione Cinologica Russa ha pubblicato un nuovo standard di razza, che combina il russian toy terrier a pelo corto, e il moscol toy terrier a pelo lungo chiamato russian toy. Tuttavia, dopo la caduta della cortina di ferro nel 1989, la popolarità delle razze esotiche importate ha quasi portato alla scomparsa dei giocattoli russi. La rinascita è arrivata con una nuova generazione energica di allevatori di cani, ma la razza è rimasta in gran parte sconosciuta al di fuori della Russia fino agli anni 90. Diversi asili nido sono stati aperti al di fuori della Russia, i più riusciti dei quali si trovano in Finlandia, Estonia, Bielorussia, Ucraina e Repubblica Ceca. L'interesse per la razza sta crescendo negli Stati Uniti e in Giappone. Il lusiant toy terrier è stato preliminarmente riconosciuto dalla Federation Kinologique Internationale nel 2006 e finalizzato nel 2017 lo United Kennel Club e il Kennel Club Stock Service hanno adottato la razza nel 2008. I terrier toy russi sono anche riconosciuti dall'American Rare Braves Association e dall'International Association of All Braves of Dos. L'originale giocattolo russo a pelo lungo è probabilmente un cane di nome Chicchi, nato il 12 ottobre 1958, da due cani a pelo liscio, entrambi i cani avevano un pelo leggermente più lungo del solito. Inizialmente, il cucciolo non doveva essere registrato, poiché il suo pelo era troppo lungo per soddisfare lo standard di razza, e di solito tali cani non partecipavano ai programmi di allevamento, e spesso non venivano ammessi e non riconosciuti. Tuttavia, Chicchi è stato registrato per pedigree e acquistato da Eugenia Fominichna Zarova. Pertanto, Zarova è l'allevatore fondatore di questa varietà a pelo lungo, in quanto primo allevatore a mantenere e allevare deliberatamente un cane con un pelo più lungo. Chicchi sviluppò orecchie sfrangiate e fu accopiato con una femmina di nome Irma, che aveva anche un pelo più lungo della maggior parte dei cani a pelo liscio, e insieme produssero una cucciolata di tre cuccioli a pelo lungo. Zarova ha allevato la razza a mosca, e quindi è diventata nota come Moscotoy Terrier. La razza è apparsa per la prima volta in una mostra canina nel 1964, e lo standard è stato fissato nel 1966. Dieci anni dopo la nascita di Chicchi, tra il 1968 e il 1969, sono stati censiti circa 300 cani a pelo lungo, un numero significativo se si considera che le cucciolate del Terrier sono generalmente piccole, da uno a tre cuccioli. Oggi, la varietà a pelo lungo è ampiamente rappresentata in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Ucraina e molti altri paesi, ma il programma di allevamento è particolarmente forte in Finlandia. Il primo giocattolo russo è stato portato in Finlandia nel 1988, quando un maschio a pelo lungo di nome Black Champion Bonaparte è stato importato dalla Russia e registrato in un allevamento finlandese. Una femmina di nome Steshiku è stata portata nello stesso anno dall'Estonia dallo stesso proprietario, e anche nel 1988 hanno dato la prima cucciolata russa di giocattoli della Finlandia. Il campione nero Bonaparte e Steshiku sono stati i primi cani russi a partecipare a una mostra canina in Finlandia nel 1989. Una razza di cani decorativi, allevata incrociando Toy Terrier inglesi, Chihuahua e Papillon. I cani sono usati esclusivamente come compagni. Sono animali divertenti, allegri, affettuosi e amichevoli, che vanno d'accordo con tutti i membri della famiglia, e gli animali domestici. Le dimensioni e la facilità di allevamento, hanno reso questi cani molto popolari in Russia e all'estero, sebbene la razza non sia stata ancora riconosciuta. Russian Toy è un nome obsoleto per la razza, Russian Toy Terrier, una razza di cane appartenente al gruppo dei cani decorativi. Esistono varietà a pelo liscio e a pelo lungo. Quelli a pelo lungo hanno abbondanti orecchie e coda troppo cresciute. Punti salienti e fatti interessanti. La razza è stata sviluppata in Russia nel XVII secolo ed era una popolare compagna dell'aristocrazia. Esistono due tipi di giocattoli russi. Con i capelli lisci e i capelli lunghi. Il giocattolo russo dai capelli lisci un tempo era conosciuto, come il giocattolo russo e il giocattolo russo dai capelli lunghi era una volta conosciuto come il terriera pelo lungo di Mosca. Il termine terriera è stato eliminato dal nome della razza, quando è stato aggiunto all'elenco ufficiale delle razze registrate dalla Federazione Cinologica Internazionale. Il Russian Toy è una delle razze canine più piccole al mondo. Aspetto? Un cane piccolo, elegante, agile, con le gambe alte, con ossa sottili e muscoli magri. Il tipo sessuale è morfologicamente debole, ma chiaramente visibile nel comportamento. Esistono due varietà di Russian Toy. Ha pelo liscio. Il pelo è corto, aderente, lucido, senza sottopelo e con chiazze calve, pelo lungo. Il corpo è ricoperto da pelo moderatamente lungo, 3-5 centimetri, dritto o leggermente ondulato, aderente che non nasconde i contorni naturali del corpo. Il pelo sulla testa, sul lato anteriore degli arti, è corto e stretto. Sul retro degli arti, sono presenti piumaggi ben definiti. Tutte le zampe hanno un mantello setoso allungato che nasconde completamente gli artigli. Le orecchie sono ricoperte di peli, spessi e lunghi a forma di frangia, che è una decorazione caratteristica del Russian Toy a pelo lungo. Colore? Nero focato, marrone focato, blu focato, lilla focato, fulvo e rosso di qualsiasi tonalità con o senza sfumature nere o marroni. Le tonalità sature sono preferite per tutti i colori. Tratti distintivi del carattere. Cane estremamente energico, attivo e giocherellone, molto leale e affettuoso verso il proprietario. Va d'accordo con tutti quelli che lo circondano. Ha una psiche piuttosto labile, ed è incline allo stress, quindi non è adatto a tenere vicino bambini rumorosi e rumorosi. Un cane della razza Russian Toy è una tipica campana. Ciò è dovuto alla sua attività, e al suo temperamento, in parte simile ai terrier, sebbene la federazione cinologica internazionale, riconoscendo condizionatamente la razza, non vedesse in essa i segni di un terrier, ed è per questo che il prefisso terrier è stato rimosso dal nome della razza. Manutenzione e cura. Il giocattolo russo si sentirà bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il Lucian Toy è considerato un cane a bassa manutenzione. Questo è un tipico cane da città, è adatto per essere tenuto in un appartamento, è ben addestrato alla toilette in una lettiera. Non necessita di bagni frequenti. Non è necessario portare a spasso il cane in caso di maltempo. I cani a pelo lungo dovrebbero essere spazzolati regolarmente con un pettine fine. Si ritiene che il giocattolo russo abbia un'energia moderatamente alta. Hanno bisogno di esercizio fisico regolare, ma a causa delle loro piccole dimensioni, di solito è sufficiente un cortile regolare, o una corsa breve. Amano camminare e giocare con i loro padroni. Poiché i cani di piccola taglia hanno il collo, e la trachea più fragili rispetto ai cani di grossa taglia, si consiglia di attaccare un guinzaglio a un'imbracatura, anziché un collare quando si cammina su un giocattolo russo. Si raccomanda inoltre di non lasciare l'imbracatura quando non è necessaria, ad esempio a casa. Spesso, un collare o un'imbracatura possono impigliarsi negli oggetti della casa e ferire il tuo piccolo amico. In generale, i russian toy terrier sono facilmente addestrabili. Tuttavia, sono ancora terrier nel cuore, possono essere testardi e cercheranno di essere maestri. Le loro bufonate da clovn, e la natura amichevole e socievole li rendono ottimi candidati per le competizioni di agilità. Il club dei genitori della razza, raccomanda vivamente la socializzazione precoce del tuo cucciolo. Molti club cinofili, centri comunitari e veterinari offrono corsi per cuccioli e vari livelli di addestramento all'obbedienza. Salute. Un piccolo cane con ossa aggraziate, il lusiantoi è suscettibile a molti tipi di influenze meccaniche, virali e della temperatura. Con il giusto contenuto, praticamente non si ammalano. Predisposizione della razza alle malattie, gli organi più problematici. Denti, apparato scheletrico, pelle, pancreas, cuore. All'età di sei mesi, i denti del cane iniziano a cambiare. I molari crescono, ma a volte i denti da latte stessi non cadono, devono essere rimosi con l'aiuto di un veterinario. Inoltre, il cane ha un senso di sazietà molto poco sviluppato, quindi non puoi sovralimentarlo o lasciare cibo liberamente disponibile per il cane. Il lusiantoia ossa fragili e sottili, quindi è necessario assicurarsi che il cane non salti o cada da un'altezza superiore a 0,4 metri. Non è consigliabile sollevare il cane su superfici più alte di quanto possa saltare da solo. Il cane dovrebbe essere protetto dal contatto diretto con cani di taglia grande, poiché i cani giocattolo non sentono la loro taglia, e, di conseguenza, non si percepiscono, come un animale più piccolo e debole di fronte a un rivale più grande, cioè non sono in grado per misurare la loro forza. Ciò è particolarmente vero per i maschi, che, a causa del loro temperamento di razza, possono indurre i maschi molto più grandi di loro a misurare la forza, mettendosi così in pericolo. Prezzo e come acquistare correttamente. È meglio comprare un animale domestico durante l'infanzia all'età di 1,5 al 2 mesi. A questa età, tutte le sue qualità positive e i suoi svantaggi sono già visivamente visibili. Il cucciolo sarà in grado di adattarsi alle tue condizioni di vita, diventerà un membro a tutti gli effetti della famiglia. Un dato importante. All'età di 2 mesi puoi già vedere che tipo di carattere ha il bambino e scegliere un cucciolo a tuo piacimento. Le mucose e le orecchie dovrebbero essere pulite, senza secrezioni purulente. Non dovrebbero esserci ferite sulla pelle. Il mantello è pulito. Le feci molli indicano un disturbo digestivo di un cucciolo. Basta raggiungere i cuccioli e ognuno di loro si mostrerà a modo suo. Il primo a correre da te sarà l'animale domestico più amichevole e più socievole. Tali cuccioli sono scelti per vivere in un appartamento. Il bambino deve avere un passaporto veterinario, un timbro, documenti pertinenti e una dieta stabilita. Se lo desideri, puoi prendere un adulto. Ad esso si applicano tutti i requisiti di cui sopra. I cani non sono molto contenti del cambio di proprietario, ma alcuni reagiscono abbastanza tranquillamente a questo fatto. Eppure, comprare un cane adulto con una psiche e un carattere maturi è un grosso rischio. I prezzi dei cuccioli vanno da 200 dollari 700. Diversi fattori influenzano il costo. Il tipo a pelo lungo è leggermente più costoso di quello a pelo corto. Le femmine e i figli dei campioni agli spettacoli sono valutati più in alto dei maschi e degli animali domestici ordinari. Il prezzo è influenzato dalle potenzialità del cucciolo. Se vuoi comprare un cane per la tua anima, non devi preoccuparti dei titoli dei suoi genitori e scegli l'opzione più semplice. Anche un cane economico senza inclinazioni da campione, diventerà un eccellente compagno, membro della famiglia e ornamento nella vita. I terrier giocattolo russi deliziano l'occhio non solo degli amanti dei cani, ma anche dei passanti. Il terrier toy russo è un animale domestico straordinario. Sono pronti a dare ai loro proprietari amore, gentilezza e affetto, molti momenti positivi e fotodivertenti. Sanno essere persistenti e amano molto le attenzioni del proprietario. Questa razza non è per coloro che cercano un protettore, ma per coloro che apprezzano la lealtà e l'amicizia. Linea di fondo. Russian Toy, noto anche come Russian Toy, e in Russia come Russian Toy o Toy Kick, è una razza di cane molto piccola, allevata in Russia dall'inglese Toy Terrier. Ci sono due tipi di lana nella razza. liscia e a pelo lungo. La varietà a pelo liscio era precedentemente chiamata Russian Toy, e la varietà a pelo lungo era il Moscow Longa e Red Toy Terrier. Entrambi sono stati fusi sotto lo stesso nome Russian Toy nel 1988, e il termine Terrier è stato eliminato dal nome quando la razza è stata aggiunta nel 2006 all'elenco ufficiale delle razze registrate dalla Federazione Cinologica Internazionale, ed è stata registrata presso il FUNService che nel Club of America dal 2008, dal 2010 è consentito partecipare agli eventi collaterali del Club AKC. Il primo standard ufficiale di razza per queste due varietà è stato redatto in Russia nel 1966. La razza è stata quasi spazzata via due volte, prima negli anni 20 con l'avvento del comunismo dovuto alla tradizionale associazione dei cani giocattolo con l'aristocrazia, e poi negli anni 90 con l'afflusso di razze straniere dopo la caduta della cortina di ferro. Il pelo liscio è il più vecchio dei due, mentre il pelo lungo è apparso per la prima volta nel 1958. Fino agli anni 90, la razza era quasi sconosciuta al di fuori della Russia, quindi si conoscono relativamente pochi dettagli sui problemi di salute. Il giocattolo russo è stato originariamente allevato come sterminatore di topi e cane da guardia, e può ancora esibire le vocalizzazioni che ci si aspetta da quest'ultimo. È un cane amichevole, che può essere molto attaccato alla famiglia. A causa delle loro dimensioni, e della somiglianza con i chihuahua, vengono spesso confrontati.